Dai signori miei non ve la sarete mica presa perché vi ho lasciato proprio sul più bello nell'ultimo appuntamento Intanto ben ritrovati sul canale e continuiamo il nostro Before the Storm Life is Strange Episodio 1 Wake Up Ci svegliamo, ci svegliamo e andiamo a fare la scelta signori Io avevo pensato di Essere comprensivo E alla fine è l'inizio del gioco Alla fine Ma nostra madre è un tassaggio incredibile Vabbene dai Ma dai su non rompere il cazzo Non devo esagerare però Eeeh madonna Sembra che sta tirando su Un tampa scusato Ciao mamma Alla scuola Aspetta che c'è un messaggino Chi è Steph? Ciao Chloe Sì aspetta che voglio leggere tutto Quanti cazzo me ne mandi? Ciao Chloe Non è che vuoi darmi dell'altro E te Sei mica una lesbicozza Vabbè Madonna Il profilo di Frankie Incredibile Stavo pensando comunque ragazzi Anche in merito a Gli eventi del secondo episodio Che Frank È intervenuto Ma se vi ricordate bene È intervenuto Perché appunto Ha una tresca con Rachel Eeeh Non certo Per Per il rapporto Che ha con Chloe Alla fine ragazzi Rachel è Spero che verrà Veramente Sviluppata Bene come personaggio In questo Before the Storm Perché da quello che Abbiamo sempre Capito Nel Life is Strange Principale E da quello che abbiamo visto Già in queste Fasi iniziali Del Before the Storm È proprio un personaggio È un'entità epica È La classica persona Che Bella In gamba Scantata E Sa risolvere tutto È amata da tutti È voluta da tutti È È il top Quindi È È un Pokémon raro Diciamo Qui ad Arcadia Bay Ci sta Ci sta Spero che venga Sviluppata bene Secondo me Sicuramente sarà così Perché Sti giochi Sono fatti Veramente bene Pur essendo uno spazzatore Frank Bowers È tutto sommato Un tipo tranquillo Mi piace fare parte Del duro E non ho dubbi Che in vita sua Abbia fatto ben più Di una cazzata Ma per me È come un cagnolino Più cerca di ringhiare Più è carino Ormai è quasi un anno Che compro erba da Frank Non ho Quasi mai Abbastanza soldi Per pagarlo E per questo ogni volta Mi dice Che è l'ultima volta E che non è un mio amico Eppure continua comunque A darmi la roba Non è adorabile Ovviamente non l'ho mai Fatti incazzare Sul serio Magari non mi sembrerebbe Così tenero Se succedesse qualcosa Di brutto Tra di noi Ho sentito Che esce con dei tizi Che si occupano Di roba ben più losca Del vendere erba Ai ragazzini È difficile immaginare Frank insieme a gente Messa così male Ma chi sono io Per giudicare Però adesso continuerò A sperare Che la memoria Di Frank Per i debiti Sia peggiore Persino la sua abilità Di fare il duro Beh va bene Oriano E adesso siamo a posto Al momento Però E abbiamo guardato tutti A parte Chloe Vabbè Per il momento Il scoglio Il mello Però la macchina Fica No dai Non è brutta La macchina C'ha sempre La risposta pronta Chloe Però rompi il cazzo Se comincia così E' rimasto a piedi Pronti via Dobbiamo andare A piedi A piedi E voglio prendermi La bici Madonna la bici Ma no la bici volevo C'è la bici italianissima Madonna Sarà del mio vicino Mario Ruffini Mario Ruffini Di Arcadia Bay Allora Autosportiva E' il pene più piccolo Di tutta Arcadia Facciamo due parole D'accordo E' il pene più piccolo C'è il pene più piccolo E' il pene più piccolo E' il pene più piccolo Sì, comunque rompi i coglioni, cioè, a prescindere Eh, pian piano, lascia sempre più roba, fino a che, pam, te lo trovi lì Allora, diamo le solite spulciate, eh, signori Dovrei riempirlo di benzina, figa, becca a fuoco la macchina, oddio, un incendio, figa, esplode tutto Vai a spegnerlo con lancia benzina Eh, mamma mia, uh Eh, dopo la regaliamo a Max, questa Sono uscite le nuove, tipo la Roy, adesso fanno... sono orribili esteticamente Allora, aspetta, aspetta, io devo... fare robe Il matrimonio Eh, là è inaccessibile, ancora Ok Quindi, a sto punto... Allora, in teoria, secondo me, la chiave, la bussola, quale? L'estensione? Boh Ah, è una posizione di potenza Ah, è una posizione di potenza Ah, un po' più nella sua Vai Oddio, è vero che dobbiamo guardarci... gli obiettivi Ah, donna, sed di chiave a bussola, incredibile, è un'idea straordinaria Un'idea semplicissima Epica, vabbè 50-50 chance, I smash him in the face with this 60-40 Maybe 90-10 Come è stato quel... quel trillo Oh, ma è sweet trillo Io gli parlo, invece Ma però sei proprio un scemo Cioè, ti sto parlando proprio per darti la possibilità di essermi un pelino più simpatico, invece niente A little more hustle wouldn't have killed you Oh, ma è vero? Oh, ma è vero? Oh, ma è vero? Oh, ma è vero? Ebbè, la tua particolarità, Chloe Ma che non c'è ritmo? Cosa sta succedendo? Batti pugno Abbiamo promesso alla mamma di fare i bravi Poi c'è poco da fare, sapendo comunque come è andata a finire Alla fine David Non ci ha salvato il culo, ma quasi Dai, porno baffo, metti in moto, vai Porca troia Mi piacerebbe, ma ho promesso di fare il bravo Mh, mh Joyce, tua madre, c'è dolce, Chloe C'è dolce per te C'è dolce Tu avessi l'acqua, nessun dubbio Ma tutto questo, resta in avanti, ignorando la domanda C'è dolce C'è dolce C'è dolce C'è dolce C'è dolce Per lui Tu devi scegliere Eh sì, infatti Sicuramente Sicuramente la sfida avrebbe portato a qualcosa Però Abbiamo appena parlato alla mamma Ci è andata bene che non ci ha rotto il cazzo Che sa benissimo che siamo andati al concerto Abbiamo fatto un casino atomico Abbiamo beccato botte Dio solo lo sa E' stata comprensiva E abbiamo fatto una promessa Non tiriamo troppo la corda Che succede? Ah, sogna il babbo No, babbo Basta, come è quello strike Merda Stiamo No, stiamo vivendo l'incidente Porca vacca Mamma mia Non ce l'ho proprio pensato Cavolo Eh, si è sognato Si è addormentata Mentre la portava a scuola Minchia Era molto eterea come scena Infatti Un po' Sfocata Un po' Simpaticissimo Ma è la cartella Vabbè, vabbè che c'è l'armadietto Sfocata Grazie Non usate il tono sarcastico con me, ragazza Posso vedere che ci sono i miei Eh, hello Stavo in realtà a dire che Vedo Tutto Ehm, madonna Mamma mia E siamo a scuola Mamma mia Che flash Good luck seniors Siamo a scuola Siamo a scuola Qua c'è un palchetto Ma è Elliot Sì Billy Elliot No, che cazzo è questo qua Clark Kent Si, come fanno a saperlo Cioè, non penso che Rachel Abbia puttanato tutto So, how about the Tempest Blackwell Theater At its most pretentious Yeah, totally I know it's gonna be lame But I was thinking Do you wanna go together tomorrow? Maybe I try to make it a role Not to go to school Anymore than I have to Right Sitting in the back row And making fun of the drama kids Might not suck Right That's Totally what I was thinking All right See you in camp Yeah For sure T'ha piazza Eh la Chloe Ah c'ha t'ha piazza Billy Elliot Dove hai il cappello lì Che petna Ah dobbiamo andare a prendere il DVD Vai da Step Pica Step e Gin No Allora Ma qua c'è l'amico di Max Sicuramente Nel club dei film di fantascienza E' infatti Warren Warren e Brooke Esatto Era Warren l'amico di Di Max Ti faranno pezzi Eh già Ma Oh madonna Sono vestito Sembra la strega di Maybe this play won't suck Strega di fantasy 8 Ma no La strega Artemisia Ma cosa c'è? Niente Giustamente Dove sei? Ehi sono con Mickey A uno dei tavoli da picnic Ok E' calma però Oddio Questi riflessi dell'acqua Sopra il muretto Bizzarri Tra l'altro Sembra che abbia l'aura Questo muretto Ha un'aura potentissima Victoria eh Come stai? Victoria Chase E noi invece le parliamo Carrie Porca vacca Veramente Eh ti dà molto fastidio Immagino Ah ecco Perché tutti ne parlano Alla fine si Abbiamo coltellato Tutti c'è Ma andata a fanculo va Basta tagliamo Abbiamo tenuto Abbiamo tenuto Abbiamo tenuto Banco anche troppo Questa cosa Basta basta Molla tutto Sabota i suoi compiti Sì 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 Noi siamo dei geni Della chimica Dai 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 Eh sì è la grande Prego Testa di cazzo Testa di cazzo Sì sì Sculetta Sculetta Te la fa passare poi L'insegnante Di fotografia Samantha Non ti conosco Oddio ancora le bici Italianissime Guardate La voglio No io devo cercare Dei graffiti Voglio dei graffiti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Non posso, non rompermi le balle. Qua c'è una cassa. Quindi? Ah. Vabbè, sono sempre i momenti di relax. E di riflessione che ci regala Life is Strange. Ve l'ho detto, cioè. Come Batman. Sì, è stata veramente ficca. Oltre che questo era un sogno, o che la vita reale è solo un tonno di crazy. Noi ragazzi, facciamo una roba che io vado a mangiare così. Noi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo appuntamento. Recuperiamo il nostro dannato DVD. E proseguiamo questa bella avventura. Episodio 1. Con calma, comunque sta già cercando di rapirmi mente e anima. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento. Vi ringrazio sempre. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao.